Sono felicissimo di essere tornato a casa e nella società che mi ha cresciuto fin da quando ero bambino e mi ha permesso veramente di coronare il mio sogno, quello che era di diventare un giocatore professionista. Quindi, che dire, sono contentissimo, come ringrazio il direttore, ringrazio anche il presidente che sicuramente hanno avuto la pazienza di aspettarmi e devo ammettere anche di fare comunque un sacrificio, quindi, per l'amore del cielo, io spero di ricambiare questa fiducia naturalmente sul campo e, che dire, impegnarmi e dare tutto quello che ho anche dal punto di vista, oltre che del gruppo, fuori dal campo perché comunque per me Ravenna è la città dove sono nato e poter riportare comunque l'entusiasmo del Ravenna Calcio in città sarebbe una cosa veramente meravigliosa. Il campionato si vede volta per volta e si sa, c'è sempre la sorpresa, la sorpresa positiva, quindi non dico niente per scaramanzia essendo stato giù, quindi speriamo di essere la sorpresa. Comunque, al di là di quello, è un campionato secondo me tutto dove le rose veramente si stanno formando, ho capito, totalmente, quindi chissà, vedremo di conseguenza, ho capito, assolutamente.